ciao quanto è lungo il treno non manca molto wow sei spettacolare un buon cane indossa sempre il profumo quando va nelle famose zone di Lisbona guarda qui arriva il treno possiamo essere amici mio, siamo già fratelli solo fratelli lo che è la nostra piattaforma il comboio, suburbano, seppia Lisboa, procedente di Cascais, con destino A, Cais di Suderè va a dare entrare nella linea numero 2 e effettua paragia a tutte le stazioni e appelladeiros entrare ai comboios, attenzione la distanza tra i porti e la piattaforma penso che questo treno è iniziato un po' vecchio il comboio, suburbano, seppia Lisboa, procedente di Cascais di Suderè con destino A, Cascais la piattaforma è iniziato un po' vecchio e la piattaforma ok, andiamo in tre ok, andiamo in tre ok, andiamo in tre ok, andiamo in tre ok, andiamo in tre